Presso la caserma Verdi-Rosi di Rieti è avvenuta la firma della convenzione quadro tra Polo Universitario Sabina Universitas e Scuola Interforze per la Difesa NBC con la sottoscrizione del documento d'intesa da parte del generale di brigata Giancarlo Villa, comandante della scuola e del direttore del Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas, Daniele Mitolo. La sigla dell'accordo che amplia ulteriormente le collaborazioni a carattere didattico e scientifico che la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologica e Chimica ha realizzato con numerosi atenei sul territorio nazionale, nasce in ragione dell'interesse comune a sviluppare forme di collaborazione avvalendosi del rispettivo personale per raggiungere la migliore realizzazione delle relative finalità istituzionali. Tra gli argomenti oggetto della convenzione, lo smosi tra i docenti universitari e quelli della Scuola NBC con il personale tecnico specializzato che condivideranno mezzi e specifiche attrezzature messe a disposizione per l'attività di formazione. Una convenzione che riguarderà anche il comune utilizzo della mensa e che consoliderà ulteriormente i rapporti tra le istituzioni militari e quelle civili nell'ambito cittadino. Grande soddisfazione è stata espressa tra gli altri dal presidente del Consorzio Universitario, Maurizio Chiarinelli, che ha evidenziato l'importanza della collaborazione nell'ottica della formazione e dell'utilizzo comune dei laboratori messi a disposizione.